Una donna aveva presentato dichiarazioni false per percepire il reddito di cittadinanza. L'hanno individuata i carabinieri di Latina Scalo. I militari, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno segnalato alla competente autorità giudiziaria una donna italiana di 39 anni per l'inosservanza della violazione. I carabinieri hanno colto l'occasione per spiegare come le truffe, per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, siano ormai sempre più una costante. Il metodo più utilizzato da chi pensa di prendere soldi a farla franca è quello delle false dichiarazioni. In fase di ammissione al beneficio, infatti, il richiedente è tenuto a indicare ufficialmente ad essere in possesso dei necessari requisiti lavorativi, reddituali e di residenza. Ormai, però, i controlli incrociati delle autorità non lasciano scampo ai furbetti che, una volta individuati, vengono denunciati e costretti a restituire tutto ciò che è stato indebitamente percepito.